Ben trovati da Nikos di Trebi Meteo, la situazione per domenica sull'Italia vede l'anticiclone muoversi con i suoi massimi tra Scandinavia e isole britanniche, una massa d'aria molto fredda dalla porta della Bora farà il suo ingresso al nord e sull'alto adriatico. Giornata molto variabile con piovaschi al centro-sud. Andiamo nel dettaglio della nuvolosità e ci fa vedere come delle infiltrazioni di aria più umida da ovest impatteranno poi in giornata anche con l'aria fredda, quindi nuvolosità irregolare e più compatta su Alpi, Prealpi, Appenino settentrionale, precipitazioni, ma tanta variabilità anche al centro-sud, nubi a tratti minacciose che potrebbero scaricare delle piogge. Nel dettaglio possiamo verificare con questa grafica come sarà una giornata molto variabile soprattutto al sud occasionali piovaschi. Le temperature qui ancora molto viti, prossime ai 20-21 gradi sulle tirreniche, mentre al nord è numerosità compatta con dei fenomeni sull'estremo nord-ovest e poi settori prealpini, pedemontani, anche l'Appennino settentrionale in giornata, ma soprattutto netto calo delle temperature giungerà una massa d'aria molto fredda dal nord Europa. Tutti i dettagli scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.